Un saluto a tutti! Dopo la calcolatrice grafica vedremo oggi un'altra applicazione alternativa del CAD. Nella fattispecie utilizzeremo il CAD per generare un'immagine raster in Full HD come utile sfondo e decorazione per i nostri canali social o per lo sfondo del desktop. Andiamo a fare dei chiami teorici veloci per capire la codifica del colore e che cos'è questa immagine in Full HD. Innanzitutto noi quando disegniamo in AutoCAD o comunque in FreeDraft che stiamo utilizzando generiamo degli elementi grafici vettoriali, ossia dietro c'è una matematica che li ha generati e che ci permette di ingrandirli e o rimpicciolirli infinite volte senza alcuna degradazione grafica. Di contro l'immagine raster è una nuvola di punti, bitmap come si dice nel primo formato coniato dopo c'è jpeg, png e quant'altro. Questa nuvola di punti sono tanti appunto lampadine, tanti punti, tanti pixel, propriamente detti uno vicino all'altro che quindi possono essere ingranditi fino a un certo punto dopodiché l'immagine risulta graficamente deteriorata come si dice in maniera volgare, sgranata, si sgrana, diventa diciamo sgranata. Andiamo a vedere bene questa codifica RGB velocemente che nient'altro è la codifica dei colori green, red, green e blu. Come sappiamo i tre colori primari sono questi, lo sapete già dalle medie, combinando verde e rosso abbiamo giallo combinando rosso e blu abbiamo il magenta, combinando il verde e il blu abbiamo il ciano che sono i colori che già avete sentito nominare durante le esercitazioni CAD in classe che noi utilizziamo per fare le mie costruzioni, magari qualche elemento che non vogliamo sia troppo impattante a monitor. Ovviamente combinando i tre colori insieme abbiamo il colore bianco. Questa codifica è stata coniata nel 1936 dalla Commissione Internazionale dell'Illuminazione Francese E' quella che tuttora è una delle codifiche che viene implementata da tutti i monitor, ad esempio addirittura ci sono anche le lampadine con il telecomandino, adesso le lampadine LED che ti permettono di cambiare la luce, sono molto simpatiche. Chiusa parentesi, parliamo anche di risoluzione, abbiamo detto che dobbiamo generare un'immagine full HD. Che cos'è la risoluzione? E' il numero di queste lampadine, di questi pixel propriamente dette. Quello che la fa da padrone è la risoluzione verticale, quindi il numero che vediamo scritto in verticale. Si è passato nella storia dalla standard definition 720x480 alla HD, propriamente detta HD Ready per distinguerla e non creare confusioni di sorta col full HD di 1280x720. Attualmente vediamo i canali, per esempio del televisore, del digitale terrestre 501 in poi, lo vediamo in full HD, ossia 1920x1080, ricordate questi due numeri che andremo a fare un bel rettangolino. Poi abbiamo il 4K, l'8K, il 12K, tutti i K che vogliamo, ma comunque è il futuro. Per adesso noi stiamo tra il full HD e l'ultra HD, chiamato anche 4K. Torniamo nel nostro AutoCAD, nel nostro FreeCAD. Come codifica lui i colori nel formato RGB? Come si chiama il pannello dei colori, come si interagisce con i colori di CAD? Si va qui nella barra degli strumenti e si premia su questo pulsante. Questo pulsante ci permette di aprire la finestra dove noi andiamo a cliccare e a caricare tutti i colori che vogliamo utilizzare nel nostro disegno che saranno richiamabili dalla tabella delle proprietà famosa, che si trova sempre e bloccata sul lato sinistro del nostro monitor, almeno in questo programma che stiamo utilizzando, FreeCRAFT. Andiamo nel dettaglio. RGB sono tre numeri che variano da 0 a 256. Se annulliamo tutti e tre i numeri, 0, 0, 0, abbiamo una terna di 0, abbiamo il colore nero pesto. Se abbiamo tre colori col massimo della codifica, 256, 256, 256, abbiamo il bianco più luminoso, il bianco. Ok? In questa tavola noi andremo ad utilizzare un grigio scuro e il nero. Poi capiremo il perché. Innanzitutto andiamo a chiudere, andiamo a cancellare queste tre lettere da tastiera, cance, vi ricordo, e andiamo a disegnare un bel rettangolo. Di che dimensioni? Mi metto uno spazio qualsiasi e clicco per dare il primo punto, tasto destro, dimensioni, le avevo già digitate, le ridigito 1920x1080. Sono proprio i pixel, giusto? Abbiamo detto la risoluzione orizzontale e la risoluzione verticale di un Full HD. E confermiamo con OK. Quindi noi stiamo generando il contorno e andiamo a precisare ancora una volta che le unità di misura in AutoCAD non ci sono. Noi disegniamo i millimetri e digitiamo dalla tastiera un numero che associamo noi mentalmente ai millimetri. Nella calcolatrice grafica, nella precedente video lezione, abbiamo digitato dei centimetri, ma sempre numeri abbiamo dato e abbiamo associato noi a quel numero i centimetri e ovviamente i centimetri quadri per l'area. Stavolta digitiamo e per noi il significato di quei punti, l'unità di misura, è il numero dei pixel. Quindi vedete che tutto è molto flessibile. L'importante è aver dato la geometria che è in rapporto 16 noni, come si dice, nel formato widescreen, detto all'inglese. Ok, abbiamo fatto questo rettangolo, non è che andiamo a caricare un'immagine grafica con un rettangolo neo, non mi sembra molto caina. La andiamo a riempire, col comando che già conosciamo ormai, riempimento. Che sta qui, quindi clicchiamo sul riempimento e clicchiamo sul bordo del rettangolo e confermiamo con il tasto invio. Lui già mi richiama lo schema che io voglio utilizzare, ma ce ne sono tantissimi. Ognuno di noi può utilizzare quello che più, diciamo, si sente di triangoli. Io ovviamente scelgo quello di Escher, che già abbiamo sentito questo nome nella seconda videoguida dei cenni teorici. Come angolo non mi sento contento, lo voglio lo schema inclinato di 45 gradi. Come scala scelgo 100 perché voglio una densità non troppo alta, altrimenti il programma può andare anche in crash. Se io metto qui una scala 1.0, quella che lui mi propone all'inizio, mi vuole fare tanti di quegli elementi in questo piccolo rettangolo che lui va in overflow, come si dice tecnicamente, ossia genera troppi elementi e va in crash. Ricordate che gli elementi sono veramente tanti, anche perché poi l'effetto grafico sarebbe inutile, perché vedremo tantissimi elementi grafici accalcati e vedremo tutto insieme, tutto bianco praticamente. Non riusciremo a distinguere nulla. Quindi mettiamo 100. Andiamo a confermare con OK. Et voilà, magia! Il programma ci ha fatto una bella grafica che in teoria potremmo già utilizzare così come stiamo vedendo. Ma noi vogliamo fare una cosa più raffinata e soprattutto dobbiamo fare il secondo passaggio con un altro software che vedremo poc'anzi, sempre indicato per il download, ed è gratuito ed è portabile come al solito, è indicato con il link di download nelle indicazioni, nella descrizione del presente video. Cosa andiamo a fare? Nella successiva fase, quella con l'altro programma, dobbiamo andare ad invertire i colori, è un'operazione di un secondo. Però per fare questo dobbiamo fare alcune rifiniture. Innanzitutto il bordo di questo rettangolo, andiamo a cliccare, ok, abbiamo selezionato solo il rettangolo, lo andiamo a indicare col colore nero. 0, 0, 0, ok? 0, 0, 0. Andiamo a vedere cos'è successo. Il bordo non c'è più. Non è che non c'è, ma è nero come il colore dello sfondo e quindi si confonde. A noi ci servirà dopo, lo vedremo. Anche questo riempimento non lo voglio così calcato bianco, perché sennò quando vado ad invertire i colori il bianco diventa nero. Faccio proprio il negativo, no? Andrò a fare il negativo con l'altro programma grafico. Ok, quindi lo vado a mettere di un grigietto scuro. Per esempio, 250. Vediamo l'effetto che mi fa. Ok. Spettacolare. Andiamo a generare l'immagine, finalmente. Da Tools, Make Raster, e quindi torniamo con la terminologia Immagine Raster. Andiamo a selezionare il rettangolo che vogliamo fare, oppure addirittura velocemente andiamo a fare col comando Extends, perché praticamente abbiamo generato solo quello e lui mi prende in automatico la geometria che abbiamo disegnato. quindi è comodo Extends. Andiamo a definire la densità. Allora, l'importante è che questo numero sia superiore di 1920x1980. Lo posso anche calare, ne so, faccio 22. Ok? E confermo col tasto OK. Lui mi sta dicendo che un'immagine Raster della regione è stata salvata al file che si trova qui. Ok. Io già l'ho fatto. Andiamo a vedere il risultato finale. Ok. E' questo. Quindi, semplicemente, ha catturato l'immagine dello schermo nella dimensione che a noi serviva. Perfetto. Ovviamente, non lo possiamo anche utilizzare così, per chi è un po' dark di voi, lo può utilizzare anche così, se gli piace così, lo può utilizzare anche così. Ma nel caso mio vi farò vedere che il risultato grafico che voglio è più raffinato. Allora, che faccio? Devo convertire i colori. Ma questo comando ci serve anche quando noi andavamo ad esportare i nostri disegni. Perché noi possiamo creare il PDF, possiamo stampare con la carta, possiamo stampare in elettronico il PDF e i comandi fondamentali che dobbiamo imparare, ma possiamo anche creare un'immagine. Ma quando noi creiamo un'immagine esportata col comando detto poc'anzi, tools make raster, lui mi genera un'immagine come la vediamo a monitor. Quindi, o dovrei andare poi a scegliere un layout, a cambiare le impostazioni di colorazione del monitor, o se no, che faccio? Utilizzo un piccolo escamotaggio, ossia un programma grafico. Andiamo a vedere questo programma grafico che utilizzeremo, gratuito, portabile, che pesa pochissimo, come al solito scelgo sempre programmi ottimizzati per le nostre esigenze, ma anche di una certa potenza, vediamo che ci sono i layer. Non lo spiego in dettaglio questo programma, ma vi invito a scaricarlo e a giocarci, perché è veramente molto 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 interessante e sfizioso, quasi potente come quelli professionali. diciamo, mi permette di fare varie operazioni in ambito raster. Quindi qui, se disegniamo, perché ci sono anche i comandi di disegno, linea, punto e quant'altro, ma stavolta noi andiamo a disegnare dei pixel, che quando andiamo a salvare non sono più editabili. Mi spiego. Non è come il programma CAD, che poi lo riapro, cambio le dimensioni, lo copio e incollo. Viene congelato in questa serie dei punti, viene, diciamo, marchiato. Spero di essere stato chiaro. Andiamo ad aprire con la funzione open, come al solito, e vediamo che andiamo ad aprire la funzione, questo file generato da AutoCAD, ok? Che, manca a farla apposta, è proprio 1920x1080 pixel. Lo leggiamo nelle dimensioni che stanno qui in basso, ok? Quindi stiamo facendo la cosa corretta, stiamo generando un'immagine in full HD. Ok, il comando è molto rapido. Immagine, Adjustment, Invert. Quindi, Adjustment, Invert. Questo comando rapido, CTRL-I, si trova anche negli altri programmi professionali di editing raster. Quindi, come vedete, una volta imparato i software al computer, molte delle cose tornano. Anche questo è un programma in inglese, ma abbiamo problemi di e proprio di no. Sono veramente dei vocaboli molto, molto, molto noti. Per me, che conosco una cinquantina di software in totale, tra il CAD e il Raster, per me. Per voi, all'inizio, una volta tradotti e capiti soprattutto i significati dal punto di vista tecnico dell'immagine, di manipolazione, diventa tutto molto facile. Quindi, il comando che a noi ci serve è Invert. Cioè, Invert fa il negativo dell'immagine, ok? Per essere molto esplicito. Clicchiamo. Ok. Ho ottenuto l'immagine negativa, che vado a zoomare. E' un effetto grafico molto, molto, molto più gradevole. Ok? Io, se avrei voluto, adesso qua il tempo a nostra disposizione sta finendo, avrei caricato l'immagine con un altro layer, ad esempio io andrò a caricare qui il mio logo centrale, per ottenere il risultato finale che vediamo qui. Questo è il risultato finale che io ho ottenuto e la grafica del canale che ho caricato proprio di recente in tutti i miei canali, Facebook, Twitter, LinkedIn e quant'altro. Ovviamente, non vi devo svelare un piccolo segreto. Queste ombre, questi giochi di luce che state vedendo, non li ho fatti con questo programma. Non vi scimunite a trovare questa funzione in questo programma. E' un programma grafico, diciamo, avanzato. Quindi, vedete il risultato finale per notare la bellezza della composizione. Ma, diciamo, ovviamente questo effetto grafico si ha con ben altri software. Però l'importante è aver utilizzato anche un software raster che comunque si tratta sempre di che.